Accentuata e stravista Le grandi profezie sul futuro dell'umanità Amadeus Volben a cura di VB Mediterranea Ramatis È tipico delle creature egoiste voler sopravvivere a qualsiasi prezzo senza importarsi del sacrificio delle vite altrui. Il vigoroso istinto di sopravvivere ad ogni costo è ciò che crea il panico. Di fronte ad un naufragio o a una catastrofe imminente le creature umane cercano di ferire o uccidere spietatamente allo scopo di continuare a vivere sul piano carnale poiché il terrore che è latente nelle loro anime fa loro dimenticare i valori sublimi dello spirito e di sacrificarsi per il prossimo. Il panico è la paura accentuata e stravista dall'egoismo umano. Si manifesta in tutti gli atti che minacciano gli interessi umani o individuali degli esseri. sorge generalmente in quasi tutti gli atti della vostra vita. Ora, in epoche di razionamento, emerge in coloro che si mostrano afflitti per raggiungere i primi posti nelle file dei rifornimenti. Ora, attacca vigorosamente e dannosamente le donne indisciplinate che si insultano furiosamente nelle liquidazioni commerciali dell'ultima ora. Ora, aggressivo ed insano, agisce negli autobus affollati, imponendosi con la forza bruta. Quando l'essere umano aderisce coscientemente al divino messaggio del Vangelo di Gesù, abbandonando certe situazioni del mondo transitorio della carne, facendo favori ai bisognosi, sono sicuro che con queste qualità nessun profeta, per quanto spaventoso sia, sarà capace di provocare alcun panico. Grazie a tutti.